Buongiorno a tutti, sono Rosanna Favato, l'amministratrice unica dell'ASP di Bologna, l'azienda dei servizi alla persona. ASP è l'azienda che quotidianamente assiste gli anziani della città, 550 nelle nostre strutture residenziali, cioè casi di riposo, residenze sanitarie e alloggi protetti, e più di 3.000 anziani a domicilio. L'emergenza coronavirus ha sollecitato la solidarietà di tutti, filantropi, imprenditori e i singoli cittadini. Rivolgo un appello a tutti, perché anche l'azienda dei servizi alla persona ha bisogno di risorse aggiuntive in questa emergenza pandemica, ha bisogno di risorse per mettere in sicurezza gli anziani delle nostre strutture e soprattutto ha bisogno di risorse per raggiungere il maggior numero possibile di anziani a domicilio. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per adeguare i servizi a questa situazione di emergenza, per proteggere gli operatori che vanno messi nelle migliori condizioni possibili per poter erogare assistenza ed essere di aiuto agli anziani. Non vi dimenticate degli anziani che sono i soggetti più fragili, più vulnerabili e più soli. Grazie.